Ragazzi Times Square, allora vi devo dire ci sta un fenomeno, poi io in America son matto, ci sta uno che sta a suonare i cazzi suoi e a fianco a lui c'è Karate Kid. Un porco due che fisico che c'ha questa età, una cosa sull'acqua. Guardate, guardate, guardate che movimento. Bella Karate Kid.